Volano bassi. Sembrano stremati. La moglie del taglia legna ha bisogno del nostro aiuto. È troppo presto il piso. Conosci i patti? La nuova creatura sta per vedere la luce. Che cosa avete fatto mio figlio? La natura sta facendo il suo corso. E il nostro compito è assecondare ogni suo volere. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info